Sono Linger Bellotti, responsabile tecnico-scientifico del Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzatoriera, che nasce nel 1985 su iniziativa di Anci Servizi SRL, per offrire alle imprese calzatoriere e della relativa filiera, servizi di consolidata professionalità nei settori della ricerca, della sperimentazione e del controllo qualità. I laboratori fisico-meccanico e analisi chimiche sono le due aree in cui convergono tutte le attività di ricerca e prove sulle calzature, sui componenti e sui materiali di applicazione calzatoriera. Le attività del CIMAC, inizialmente focalizzate sulla determinazione delle caratteristiche d'uso e delle relative modalità di prova, se sono successivamente estese a campi di applicazione più specifici, quali la protezione del consumatore e dell'ambiente, la protezione del piede e della mano, il marchio di qualità ecologica Ecolabel e le calzature ortopediche. Il CIMAC favorisce inoltre la diffusione, l'uso e la comprensione degli aspetti legislativi della normativa tecnica, nonché di tecnologie relative a processi e ai materiali innovativi. Il valore dell'attività svolta dal CIMAC è confermato dall'accreditamento Sina la Credia che garantisce dal 1990 la competenza, l'imparzialità e la trasparenza del nostro operato. Grazie per la contesa attenzione.